Uffici della Regione troppo costosi e così, causa spending review e finanze che langono, si pensa ad acquistare un immobile che nel tempo ammortizzerà l'attuale spesa di affitto degli immobili disseminati sul territorio. Peccato che, spiega il Movimento 5 Stelle, l'attuale costo di affitto risulta minore della futura spesa e presenta le carte. Oggi la Regione Abruzzo paga 1.100.000 euro di canone locazione annuo per gli edifici in affitto sul territorio di Pescara. Domani, con la presa in locazione della City, saremo chiamati a pagare 1.724.000 euro all'anno. Quindi già una differenza di oltre 600.000 euro all'anno. Poi si parla di un affitto per nove anni del complesso la City e se entro i primi tre anni non si opterà per l'acquisto della struttura, e io ho i miei dubbi perché la Regione non ce li ha quei soldi per acquistare la struttura, il contratto si rinnoverà per altri nove anni. Una spesa insostenibile, dice il Pentastellato, pensando che ogni dipendente avrebbe diritto a 25 metri quadri. La spesa totale, rispettando queste norme, ammonterebbe ad una cifra davvero irrisoria. Siamo arrivati alla conclusione che quel 1.100.000 euro che paghiamo all'anno attualmente per gli affitti si potrebbe abbattere a 200.000 euro l'anno addirittura, razionalizzando gli spazi perché per ogni dipendente la legge impone una metro quadratura dai 20 ai 25 metri quadri.